vediamo come inserire uno sfondo in una scena ad un modello noi abbiamo questa teiera abbiamo un tavolo di appoggio possiamo fare una visualizzazione del render della scena, qualità media, render ora questo è il risultato di un rendering con il modello di luci attuale vediamo di inserire uno sfondo in questa immagine di rendering vediamo come esiste già uno sfondo ed è grigio uniforme modifichiamo lo sfondo vista nella scheda vista, gruppo viste, visualizza gestione nella finestra gestione viste possiamo visualizzare le viste preimpostate vedere le viste di layout e le viste di modello che in questo momento non sono state definite quindi facciamo nuova vista la vista nuova sarà la vista attuale che chiamiamo vista 1 confermiamo tutti i valori ad esempio la visualizzazione corrente ovviamente l'UCS è il globale e lo stile di visualizzazione corrente quindi il rendering che stiamo vedendo lo sfondo possiamo anche cambiare uno sfondo qua oppure vediamo in un altro ambiente come cambiare lo sfondo confermiamo con ok e vediamo questa vista che si chiama appunto vista 1 che sarà la vista corrente quali sono in questa vista 1 i parametri che possiamo modificare prima cosa il nome la categoria se abbiamo delle categorie di vista l'UCS che tipo di UCS se è globale questo è la scala di annotazione la visualizzazione lo stile di visualizzazione possiamo anche modificarlo e possiamo ovviamente anche salvare questa vista secondo uno stile diverso modifica locale sfondo che sarà quello che vedremo adesso andiamo avanti animazione se e quando faremo animazione possiamo anche definire il tipo e poi abbiamo dei parametri geometrici che sono l'apparecchio fotografico il punto di mira l'altezza l'angolo di rotazione quindi la focale del nostro apparecchio fotografico bene torniamo in modifica locale sfondo come si può vedere sono identici a prima il tipo di modifica possiamo avere una tinta unita appunto con il colore definito possiamo avere anche uno sfumato ad esempio di due colori uno sfumato che va dal celestino al blu e come si può vedere lo sfondo sarà con questa sfumatura con tre colori possiamo aggiungere un terzo colore ad esempio intermedio un misto fra i due quindi un mix oppure possiamo anche definire sole e cielo secondo una regola che sarà definita dal sistema definire il colore e anche la posizione geografica quindi definire a seconda della posizione geografica del giorno dell'anno definire dove è posizionato il sole a noi interessa un altro tipo immagine inseriamo un'immagine quindi sfoglia abbiamo già preparato un'immagine che si chiama sky16 apri il tipo appunto è un'immagine il settaggio andiamo a vedere regola l'immagine che sarà tre tipi di posizione quindi centro stira o mosaico mosaico come si può vedere è una ripetizione dell'immagine non molto funzionale ai nostri fini invece facciamo centro centro possiamo definire la scala come si può vedere stirare quindi modificare la scala in larghezza o in altezza quindi questa è una deformazione possiamo dire anche mantieni il rapporto oppure risolviamo il problema dicendo stira con stira il sistema mi deforma quindi mi stira l'immagine in modo da coprire tutto lo sfondo della mia scena ok confermo e ok a questo punto imposta corrente applica e ok questa è la scena quindi come si può vedere alla scena esattamente precedente ho inserito uno sfondo lo sfondo è uno sfondo fisso quindi dobbiamo tenere presente che se io modifico il punto di vista lo sfondo rimarrà costante quindi questo è l'unico limite di questa modalità sfondo lo sfondo rimane indipendente dal punto di vista facciamo un render e questo è il risultato del render qui dobbiamo fare delle modifiche ad esempio vediamo che ci sono troppe nuvole attiviamo la finestra impostazioni di render avanzate e ad esempio per risolvere quel problema dobbiamo semplicemente in ray tracing eliminare le riflessioni massime zero rifacciamo il render e abbiamo eliminato le riflessioni quindi abbiamo eliminato quell'effetto un po' spiacevole di vedere le nuve le riflesse sul tavolo grazie